Il Presidente Marsilio oggi è venuto in aula a raccontarci che i cittadini della Provincia dell'Aquila non hanno subito alcun danno, che l'Aslo 1 continua a derogare pienamente i propri servizi, che noi tutti possiamo accedere alle cure senza alcun problema e che non sono stati in pericolo né all'inizio né alla fine i servizi informatici tutta l'Aslo. Noi la realtà la conosciamo molto bene, è enormemente diversa rispetto a quella che ci ha raccontato il Presidente Marsilio. L'atteggiamento che ancora questo centrodestra ritiene di mantenere, di portare avanti, è da censurare. Il silenzio che a distanza di un mese hanno tenuto è stato infranto solo per assumere un atteggiamento peggiore, vergognoso quello di non venire a raccontare la verità a tutti i cittadini. Noi continueremo a portare avanti un'operazione verità su quello che è realmente accaduto all'interno della nostra provincia, specialmente perché può coinvolgere, e già ne abbiamo avuto prova, anche tutti gli altri cittadini e tutte le altre Asle regionali. Porteremo avanti questa attività a livello documentale in ogni sede possibile. Ad oggi le responsabilità politiche del Presidente Marsilio sono evidenti e da questo punto di vista non lo lasceremo scappare fino a quando non avrà raccontato la verità a tutti i cittadini abruzzesi.